SOS estetista, eccomi qua. Oggi vi faccio vedere l'infodrenaggio sempre sulla donna incinta a pancia sotto. Chiaramente si mette su un fianco la signora in modo che anche le donne incinte possano fare la parte posteriore del corpo, non solo anteriore. Ecco, questa è la tecnica sempre dell'infodrenaggio piuttosto energica, come abbiamo detto già nel primo girato perché altrimenti è troppo in superficie e il massaggio in superficie fa poco. Faccio male signora? Scusi? Faccio male? No, no, perfetto. Il pompaggio consiste proprio nel pompaggio e drenaggio. Questo è il pompaggio, questo è il drenaggio. Pompaggio, drenaggio. Ecco, il muscolo si deve proprio muovere. In questo modo facciamo la scavatura qui alla parte della caviglia perché è il primo punto che si gonfia. la signora quando è venuta aveva due belle papagne dei piedi. Poi facciamo vedere anche come massaggiamo la schiena in modo più... la fascia renale è molto soft perché c'è allacciato il feto, quindi è una parte molto delicata, però andiamo a fare un bel impasto alla parte del trapezio perché è quella più portata ad essere in tensione durante la giornata con il peso del corpo, della pancia, del bambino. ecco qui, adesso passiamo la schiena. Grazie. 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 Almeno per 5 minuti. e questo è quanto ma 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 signora si è addormentata evviva l'abbiamo rilassata questo è tutto SOS Estista vi saluto alla prossima puntata